Il ripasso a china non è una fase di poco conto, ma rientra nell'ambito artistico del fumetto in una procedura piuttosto importante che serve non solo ad abbellire il disegno, ma a conferire tridimensionalità per alcuni aspetti, utile addirittura per andare a correggere il disegno stesso a lapis qualora fosse necessario. Questo va in base all'esperienza di chi andrà a fare l'inchiostrazione. Di solito anche il disegnatore stesso provvede ad inchiostrare i propri disegni e per poter arrivare ad inchiostrare in maniera professionale occorre acquisire una certa manualità. Io per esempio in passato ho frequentato l'Accademia Disney che mi ha permesso di fare un passo in più in avanti ad un livello che non avevo ancora raggiunto per poter inchiostrare personaggi come Topolino e Paperino, seguendo una stilizzazione piuttosto pulita che fa parte della scuola disneyana. Ed è su questo tipo di disegno e di stile che noi andremo a lavorare. Bando alle ciance e andiamo avanti. Buon apprendimento! Per prima cosa ci serviranno gli strumenti per inchiostrare. Una boccetta di china nera, fondamentale per intingere il pennello o il penino di china nera e inchiostrare i disegni. Penna Relis Tidehettler a inchiostro nero, dalla punta più piccola e sottile di dimensioni 0.05 a quella più grande e più grossa 0.8. Solitamente sono utilizzati nel ripasso a china per fare tratteggi, piccoli particolari, sketch, oggettistica varia, eccetera. C'è anche chi per esigenze specifiche li utilizza per inchiostrare gran parte del proprio lavoro. Poi ci occorreranno almeno due pennelli Winsor & Newton serie 7 numero 1 a pelo corto, perché uno dei due ci servirà per il bianchetto. E' indispensabile per imparare a inchiostrare personaggi e ambientazioni con un segno morbido. Un tubetto di tempera bianca viene usato per fare le correzioni sulla china nera, come il classico bianchetto che serve a cancellare le parole scritte a penna. Come abbiamo già visto, un album Foglie F4 Fabriano lisci. Sono cartoncini lisci che offrono un buon impatto visivo per iniziare ad inchiostrare fumetti. Poi, in più a quello che avevamo già visto, abbiamo bisogno, se possibile, di un pacchetto di fogli bianchi formato A4 Fabriano lisci, multi paper digital printing con superficie lucida e liscia. Si tratta di fogli da fotocopia lucidi adatti a stampare anche immagini colorate. Su questi andremo a realizzare prove con la china, anche non completi. Ci consentirà così di abituarci a tenere il pennello in mano e fare esercizio. In questo modo, non andremo a toccare l'album F4 Fabriano, perché ci servirà per inchiostrare i disegni finiti e pronti per il ripasso a china contenendo i costi. Naturalmente, questo tipo di carta la suggerisco perché l'ho già testata io stesso. Poi, un altro strumento che dovremmo imparare ad utilizzare anche in un momento successivo è il pennino con punta intercambiabile per eseguire tratteggi, eventuali rifiniture e ritochi nella fase dell'inchiostrazione. Questo strumento si adatta bene a chi si trova già in una fase di apprendimento più avanzato, perché richiede un certo estero nell'utilizzo. Ma, se nel frattempo volete provarlo, fatelo soltanto su cartoncino liscio come l'F4 Fabriano. In fase iniziale bisogna abituarsi a scarabocchiare per imparare. E purtroppo, la carta più adatta non è certamente quella da fotocopia per questo strumento specifico, ma in ogni caso, se avete voglia, fate dei test e cercate di divertirvi mentre lo provate. Inoltre, voglio mettervi a conoscenza anche di un altro tipo di carta professionale, che è considerata tra le migliori per realizzare fumetti inchiostrati. Sto parlando di fogli di carta liscia Scheller Summer, formato 21x29,7 cm, grammatura 200g MQ, che sono prodotti in Germania. Ovviamente, si possono reperire anche di dimensioni più grandi. Sono ottimi per disegnare e inchiostrare fumetti. È possibile persino apportare delle correzioni grattando sopra questi fogli con una lametta da rasoio. Sono più costosi, naturalmente, degli F4 Fabriano. Quindi, vi suggerisco, nel caso vogliate provarli e acquistarli, di rivolgervi ad un negozio della vostra città specializzato nella vendita di articoli legati all'arte e al disegno artistico. Eventualmente, potreste provarli in futuro, una volta che riuscirete a raggiungere l'autonomia nella creazione di fumetti per bambini o un livello successivo a quello iniziale. Con il pennello possiamo ottenere un tratto più morbido e modulato per un disegno composto da lineamenti più precisi e puliti, come questo che ho realizzato. Ed è proprio su questo particolare strumento che ora andiamo a fare esercizio per capire in quale modo dobbiamo procedere e quali sono gli aspetti che dobbiamo imparare a capire. Ora analizziamo insieme questo mio disegno senza sfondo e già inchiostrato, che come possiamo notare sono due personaggi molto famosi, si tratta di Paperino e Paperina, che si stanno baciando, dove io li ho disegnati in un abbraccio stretto, in una, diciamo così, posizione abbastanza complessa, come vedete, perché ho un po' dovuto fare in modo che si dovessero abbracciare strettamente, far combacciare bene il becco, eccetera, per cui in una posizione anche abbastanza complicata. Allora, ora andiamo a vedere un po' più da vicino che cos'è l'inchiostrazione, che come vedete è un segno piuttosto pulito e realizzato interamente con il pennellino, che è questo che appunto vi ho indicato in precedenza, che è il pennellino Winsor & Newton numero 1, serie 7, che dovete avere per forza, è necessario per fare questo tipo di ripasso a china, un barattolino dove metteremo un po' di acqua, un barattolino qualsiasi, per mettere un po' d'acqua, perché alla fine dell'inchiostrazione è bene ricordare che il pennellino va sempre pulito e va sciacquato. Non c'è bisogno che lo laviamo con dei detergenti oppure con del sapone, va semplicemente messo in un barattolino di acqua pulita, magari se questo barattolino ha l'acqua sporca, la cambiate, mettete un po' d'acqua pulita e lo sciacquate dentro direttamente con la punta. Vi faccio vedere giusto per farvi capire che non ci vuole niente a farlo, questo è il pennellino, lo mettete dentro, lo sciacquate dentro l'acqua pulita, poi eventualmente la cambiate e lo risciacquate una seconda volta e lo asciugate magari direttamente con un tovagliolo di carta per assicurarvi che sia pulito. Soltanto con l'acqua, non dovete usare nient'altro perché poi mano a mano che lo utilizzerete nel tempo, se lo ripulite con del sapone, il sapone tenderà un po' alla volta a consumare le setoline che sono fatte in pelo di martola per questo genere di pennellini, però piano piano si consumano e quindi è bene utilizzare soltanto l'acqua e basta asciugarlo con un tovagliolo in maniera che vi possa durare più a lungo. Andiamo ad esaminare questo disegno. Vedendo i dettagli più da vicino, il disegno viene inchiostrato con una tecnica che mette in risalto maggiormente, diciamo, i segni esterni del personaggio, cioè la parte più esterna, la silhouette, diciamo così, che parte solitamente con un segno leggermente sottile che poi va ad ingrossarsi verso la metà e poi ritorna sottile nella parte finale. Questa è una tecnica che viene adoperata per dare maggiore spessore agli esterni perché in questo modo mette in risalto maggiormente i personaggi, soprattutto all'interno di una vigneta a fumetti, dove dietro di loro c'è lo sfondo, ci sono gli oggetti, eccetera, che sono eseguiti con l'inchiostrazione un pochino più sottile rispetto a loro che sono in primo piano, perché i personaggi all'interno di una vigneta a fumetti devono essere maggiormente in rilievo rispetto a quello che sta dietro di loro. L'inchiostrazione si basa su questo concetto, tutto ciò che è davanti, cioè in primo piano, rispetto a quello che sta dietro, mano a mano il segno si assottiglia, sempre con questa tecnica che permette, diciamo così, di dare una certa profondità. Questo poi lo vedremo meglio con lo sfondo e una vigneta magari completa. Ritornando a noi e ai personaggi che stiamo guardando di Paperino e Paperina, come dicevo, i segni che sono esterni partono dal segno sottile, si ingrossano, ritornano al sottile e così via, però devono, diciamo così, rispettare una certa logica, perché chiaramente, se io per esempio devo inchiostrare, come in questo caso, gli occhi che sono all'interno del corpo di Paperina o di Paperino, hanno un segno anch'essi leggermente più sottile, perché devono dare un senso di realizzazione, di profondità, un segno interno che mi deve dare, come in questo caso, il segno dell'occhio, è leggermente più sottile rispetto al segno esterno della testa, che ha una forma, diciamo, più in evidenza, deve essere maggiormente messo in evidenza. Infatti, se guardiamo bene, gli esterni sono tutti più grossi rispetto ai segni interni degli occhi, o come in questo caso, delle piegature del becco. Qui si incontrano i becchi perché si baciano, però sono leggermente più sottili rispetto a questi segni che sono esterni. La stessa cosa vale per i cuoricini. Questo che è più piccolo è leggermente più sottile rispetto a questo più grosso che è in alto. Quindi noi dobbiamo tenere conto di queste regole. Ma mano a mano che noi andremo a farle e ci eserciteremo con il pennellino, ci verrà un po' più naturale farle. Quindi qui è fondamentale l'esercizio, ma è anche fondamentale capire quello che stiamo facendo. Paperino e paperina sono dei paperi che hanno dei peli più morbidi e quindi vanno trattati col pennello. Ma un oggetto come per esempio, non so, una sedia, può essere anche realizzata con un pennarellino, perché il pennarellino non ha la stessa morbidezza che offre il pennello con le setole. Questo però è un concetto che andremo ad approfondire mano a mano che andiamo avanti. Ora inizieremo a fare una prova su un disegno di un personaggio realizzato in precedenza da me a Matita. Andremo dietro al personaggio del contadino per provare a realizzare un'inchiostrazione pulita simile a questa. Io vi suggerisco però o di ricalcarvi il contadino che avete già fatto in maniera più rifinita su un foglio liscio di quelli da fotocopia che vi ho consigliato, lo ricalcate in maniera da averlo pulito per non andare a sporcare quello che avete fatto originariamente. Altrimenti se sbagliate l'inchiostrazione su un personaggio che avete disegnato una volta soltanto, poi diventa un problema recuperarlo. Ora vi mostro anche un altro sistema in cui potete utilizzare più volte lo stesso disegno per fare i vostri esercizi. Ci tengo a precisare che in questo caso le informazioni di seguito sono fattibili per chi dispone di un PC, software professionale di grafica e fotoritocco Photoshop, stampante più uno scanner, che ci serviranno per scansionare e stampare più copie del nostro disegno originale senza intaccarlo. Come già detto in precedenza, va fatto su carta liscia da fotocopia, per immagini colorate che funziona molto bene e si adatta anche all'inchiostrazione con pennello e pennarelli Stai Dettler. In questo modo avremo un notevole risparmio rispetto all'utilizzo che sarebbe inappropriato per fare test di esercizio con cartoncini F4 Fabriano, più costosi. Se invece non avete questa possibilità, potete ricalcare il vostro disegno almeno in due o tre copie, con l'aiuto del tavolino luminoso, oppure appoggiandovi con il vostro disegno su una finestra di casa durante il giorno, così che possiate vedere attraverso la carta e arrangiarvi ugualmente anche se può apparire un sistema più scomodo. Io ho fatto anche così quando non avevo altri mezzi. L'importante è che l'esercizio venga portato avanti. Non bisogna mai fermarsi. Un modo per fare le cose si trova sempre. Ora procediamo in questo modo. Prendete il disegno che avete realizzato, lo mettete nello scanner con la faccia rivolta verso il basso per scansionarlo, poi chiudete lo scanner e impostate per digitalizzare le immagini a 300 dpi, in modalità colore, in maniera che venga preso per intero e non venga tralasciato nulla. Dopodiché gli date l'ok e una volta che l'avete importato dentro Photoshop, andate su Immagine, Metodo, Scala di grigio, quindi quando vi appare la finestra con la domanda intendete eliminare le informazioni sul colore, dovete fare Elimina. A questo punto il disegno che avete importato in modalità colore diventa in modalità Scala di grigi. Dopodiché ritornate su Immagine, Metodo, Due tonalità e scegliete nel primo quadratino in alto una tonalità. Vi consiglio di metterle in celestino che si va molto meglio ad inchiostrare e date l'ok. Dopodiché andate su File e stampate il vostro disegno con il celestino chiaro che abbiamo scelto, in maniera che il ripasso a china che andremo a fare col colore nero si veda bene in evidenza. Prima però di arrivare a fare subito questo personaggio inchiostrato, andremo a fare qualche prova col pennello su carta per abituarci a tenere il pennello per cominciare a fare qualche segno in maniera da prendere un po' di dimistichezza. Qui ho preparato una serie di esercizi da eseguire con il pennello che poi inserirò all'interno delle risorse che vi offrirò in maniera che voi possiate continuare gli esercizi per prendere dimistichezza. Si comincia facendo i segni partendo dal sottile per andarsi a ingrossare, poi ritornare sottile e così via, uno dietro l'altro, piano piano, e imparare ad impugnare bene il pennellino. La mano, quando la appoggiate sul foglio per fare l'inchiostrazione col pennello, cercate di essere morbidi e fluidi. Quello che conta, oltre a fare il segno, che ci servirà appunto per imparare a inchiostrare, è quella di avere mano ferma, cioè il segno non deve essere tremolante. Tra una linea e l'altra deve cercare di avere più o meno lo stesso spessore. In questo modo ci abitueremo ad assimilare questa tecnica. Piano piano un po' alla volta. Io qui avevo già iniziato a preparare dei segni fatti con il pennello dopo tanto tempo che ero fermo. In effetti, se noi andiamo a vedere un po' più i dettagli, possiamo notare che ogni linea che io ho fatto inizialmente non è uguale all'altra. Infatti questa è un pochino più grossa, ad esempio. Questa nel mezzo è un pochino più sottile. E la stessa cosa vale per questa. Quindi piano piano, facendo una linea dietro l'altra, dobbiamo tenere conto che lo spessore deve essere più o meno lo stesso. Questo è un primo esercizio che ora continueremo a fare insieme. Poi ne avevo preparati anche degli altri, che ora vi faccio vedere. Questo con delle linee un pochino più ondulate. Questo qua è tirato a pennello con delle linee più dritte. E ho cercato di fare varie forme. Quindi voi dovrete andare dietro a questo tipo di esercizio. Quello che voi dovete apprendere è questo sistema qua, questa tecnica intanto. Qui non è importante andare a correggere col bianchietto, essere precisi. Ci dobbiamo abituare. I risultati li otteniamo piano piano. Ne dovremo fare tantissimi, probabilmente, di questi fogli. Questo è un altro ancora. Vedete, ho cercato di variare nei lineamenti, proprio per rendere l'esercizio più interessante, anche più divertente da fare, però bisogna divertirsi, ma nello stesso tempo bisogna apprendere. Un altro ancora. E ora continueremo a farli insieme. Tenete conto che questi fogli qua, che ho utilizzato, come vi ho già detto, sono quelli da fotocopia lisci, di grammatura leggermente più grosso, rispetto a quello classico da fotocopia. Poi, un altro suggerimento che vi posso dare, prima di iniziare a inchiostrare, volendo, il pennellino, lo potete bagnare appena con un po' d'acqua, col barattolino, che dovete tenere sempre con voi, riempirlo di acqua. Lo potete leggermente sciacquare, asciugare proprio appena, in maniera che la china intacchi bene la punta e la renda morbida. Vi svelo anche un altro piccolo segreto accorgimento. Siccome la boccetta di china, piano piano, quando rimane aperta, con la china all'interno, intingendo il pennello dentro, a volte la china diventa un pochino più, come posso dire, un po' meno fluida. Infatti, quando poi noi andiamo a inchiostrare e passiamo il pennellino nel foglio, se vedete che avete un po' di difficoltà di scorrimento con il pennello, potete utilizzare una siringhetta, se ce l'avete, o comunque un cucchiaino di acqua, magari, come questo. Prendete un po' di acqua e mettete qualche goccia di acqua dentro la boccetta di china. Dopodiché, chiudete la boccetta, mischiate un pochino, facendo un movimento di questo genere, così, in maniera che si mischi bene l'acqua con la china, ma proprio pochina, qualche goccia di acqua basta. cercate di miscelare bene con questo movimento, un pochino di acqua con la china, in maniera che quando andate poi a immergere nuovamente la punta del pennello, una volta che poi lo passate sul foglio, sicuramente vi scorrerà meglio. Perché rimane più fluida. Questo è un piccolo accorgimento che ho acquisito negli anni, continuando ad inchiostrare con una certa regolarità e lavorando. Un'altra cosa importante, prima di fare il segno, dopo che avete appunto immerso la punta dentro la china, dovete avere con voi un foglio, passate un po' il pennellino sopra il foglietto, in maniera che molli, diciamo, l'eccesso di china che accumula, perché chiaramente, se voi intingete il pennello dentro la boccetta di china, dovete prima passarlo su un foglio a parte, in maniera che sia pronto, per poi andare a fare il segno di inchiostrazione. Ora comunque lo vediamo insieme. Proseguiamo gli esercizi che avevo iniziato. Intingete il pennello nell'inchiostro, poi lo passate prima su un foglietto a parte, in maniera che molli un po' l'eccesso. Come abbiamo detto, si parte da un segno sottile, poi si va ad ingrossare. Vedete, ad esempio, in questo caso qua, io poi ho finito con il segno sottile, ma in questo caso qui, il pennello non scorre molto bene, perché probabilmente l'inchiostro è un po' troppo denso e la carta che sto utilizzando tende ad asciugare in fretta il segno che io ho tirato giù. Quindi in questo caso io devo aggiungere qualche goccia d'acqua alla mia boccetta di china. Quindi sbatto un pochino le china con qualche goccia d'acqua che ho appena messo. Passate un po' il pennello così e ora ricominciamo a tirare i segni. E andiamo avanti. In effetti, ora scorre meglio. Vedete, questi segni non sono perfetti, perché c'è bisogno di continuare a fare esercizio. I segni che facciamo devono essere abbastanza simili, tutti quanti. e così via. Ecco, questi due ad esempio vanno già meglio e bisogna continuare su questa strada qua. Non vi preoccupate anche se non vi vengono benissimo. Siamo posta qui per fare esercizio. Questo conta. Un'altra cosa importante è se qualche segno non vi viene bene non ci riandate sopra, andate avanti con l'esercizio lo stesso, lasciatelo stare. Se un segno non vi viene tanto bene non dovete ripassarci sopra più volte perché altrimenti perdi di freschezza. e così via. 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 ecco, è arrivato anche qui fino alla fine del foglio. Questi segni qui come risultato sono già meglio di quelli di prima. e così via per tutti gli altri. Ora non sto a farveli tutti quanti perché avete capito la procedura qual è. Una volta che avete completato tutti questi esercizi a quel punto possiamo iniziare a inchiostrare i personaggi. di che